Si svolgerà al Porto Turistico Marina di Pescara, al Palabecci, dal 20 al 22 novembre, la quarta edizione di Visionaria, il forum adriatico dedicato all'innovazione tecnologica e alla transizione energetica e ambientale, promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dall'Agenzia di Sviluppo. Oltre 30 tra seminari e talk, si parlerà anche di intelligenza artificiale per le imprese, la pubblica amministrazione, comunicazione e creatività con formatori qualificati, esperti internazionali, start-up per Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara. Cominceremo con la transizione energetica. Di transizione energetica se ne è parlato tanto, qualcosa si sta facendo, ma avremo personaggi tipo il Presidente del GSE, il Professor Gere, l'ingegnere Spezia e altri personaggi a fare un quadro del percorso di transizione vera, cosa abbiamo fatto in questi anni e proiettando anche qualche idea di qual è la visione migliore per il futuro. Tra le iniziative dell'evento VisionArt ne parla l'assessore regionale a lavoro Tiziana Magnacca. Sono tre giorni di una mostra esperenziale che dimostra come sia possibile far coniugare tradizione e identità, su cui stiamo puntando molto, con quelle che sono le sfide dell'innovazione e anche le opportunità legate al mondo dell'artigianato. Quindi in questi tre giorni, che sono in realtà tre giorni di laboratorio dove staranno assieme le imprese, insieme alle scuole, insieme al mondo che è interessato ad acquistare e a verificare lo stato di salute di questo mondo artigianale. Ed un ringraziamento specialissimo Regione Abruzzo lo fa alla Camera di Commercio, al Presidente Strever, che ancora una volta riesce a guardare oltre, a guardare con grande lungimiranza al futuro e allestire, come ha fatto anche negli anni passati, questa tre giorni, riuscendo a portare qui in Abruzzo anche SMAO. E questa è un'altra grande sfida che abbiamo, quella di valorizzare le nostre start-up, come abbiamo fatto in passato e come abbiamo intenzione di fare anche attraverso FIRA.